Balliamo per Beneficenza è la sesta edizione che noi terremo al Palacultura il 13 e il 15 di dicembre a favore dell'Admo, questa volta in collaborazione con il Comune e io ringrazio tantissimo l'assessore Giuseppe Scattareggia, ringrazio tanto il sindaco Cateno De Luca che spero possa venire nella prima serata di apertura al Palacultura. Noi faremo in collaborazione come sempre con scuole di canto e scuole di ballo questa bellissima manifestazione che raggruppa tanta gente, tutti uniti per un fine comune, questa volta lo destineremo proprio tutto il ricavato all'Admo, all'Associazione Donazione Bidollo Osseo. Nello stesso tempo comunico anche che è stato realizzato da parte della MP20 un calendario che verrà dato appunto nel foyer del Palacultura con un contributo libero affinché appunto tutti i fondi possono andare all'admo.